non c'ho l'immune ok c'è l'area c'è il mio c'è l'area 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 Sì, stanno bene. Sì, stanno bene. Sì, ma andiamo a vedere la video. Come si fa? Sì. Ah, in realtà è facciato la vita. Sì, non ci sono. Sì, non ci sono. Adesso, ragazzi. Sì, non ci sono. Noi sono. Non ci sono. Non ci sono. L'accento da C2. Andiamo, Dio, Alcan, dietro, a sinistra qua. Sì, sì, sì. Musica Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.